Ha scritto al Presidente Musumeci e all'Assessore Armao per sostenere la richiesta d'incontro avanzata ieri dal Comitato Civico Patrimonio Termale. Il parlamentare regionale Sacciense Mattio Mangiacavallo condivide le preoccupazioni espresse dal Comitato in relazione all'esito infruttuoso del bando per la privatizzazione delle terme scaduto il 20 luglio scorso e senza che siano stati prorogati i termini nonostante le ampie rassicurazioni che in tale direzione erano invece arrivate dagli stessi uffici regionali. Il deputato Sacciense si dice rammaricato soprattutto per l'esclusione ancora una volta della città di Sciacca da una scelta fondamentale nell'ambito del percorso di salvaguardia e valorizzazione del complesso termale portato avanti dalla regione. Matteo Mangiacavallo non entra nel merito della scelta operata da Musumeci e Armao ma evidenzia come la stessa andava condivisa con la città e non annunciata solamente a bando scaduto. Anche Mangiacavallo infatti rivendica la centralità di Sciacca per il futuro delle sue terme. In relazione alle ipotesi ventilate negli ultimi giorni il deputato regionale di Attiva Sicilia ritiene che quella del partenariato pubblico e privato dovrebbe rappresentare una seconda fase da attuare solo dopo aver perseguito con esito negativo il tentativo di integrale privatizzazione della gestione e valorizzazione del complesso termale di Sciacca. Fondamentale comunque è il coinvolgimento della città ragion per cui anche Matteo Mangiacavallo ha chiesto a Musumeci e Armao di convocare al più presto un incontro sul futuro delle terme di Sciacca.